Presidente, bentornato sul Gargano, questo blitz ferragostano al punto di primo intervento di Viestra, che cos'è dovuto? Ovviamente non per suonare l'inno di Mameli in spiaggia, neanche per vedere delle belle ragazze in costume, che pure ovviamente apprezzo, ma soprattutto per fare il punto su una serie di questioni molto importanti per quest'area. Ieri sono andato a vedere il porto di Rodi, rivitalizzato grazie a un bravo sindaco, Carmine Danelli, ma anche grazie alla Regione Puglia, all'assessore piemontese, abbiamo finalmente dato nuovamente fondale a quel porto, stiamo peraltro per investire una somma importante per tutelare tutte le spiagge di Rodi, perché per ballare su una spiaggia devi avere la spiaggia, questo è di fondamentale importanza e i politici si interessano di tutelare le spiagge, non di ballarci sopra. E l'altro problema ovviamente è la sanità di Vieste, Vieste è una delle località turistiche più importanti d'Italia, ci sono milioni di persone e quindi è chiaro che questo briefing mira innanzitutto a sveltire un po' i lavori che si prolungano eccessivamente in questo luogo, sono tre anni e mezzo che aspettiamo la fine dei lavori e oggi sono venuti a vedere come mai non camminano. Il sindaco chiede la riapertura, la riattivazione del laboratorio analisi e la possibilità di usare l'elisoccorso anche di notte e anche durante l'inverno. Ecco, noi siamo venuti qui soprattutto a dire questo al sindaco Nobiletti che è anche lui molto bravo e molto competente, ovviamente noi dobbiamo lasciare il laboratorio di analisi qui e nella nostra utilità, è vero che negli atti della regione Puglia negoziati con il ministerio, il ministerio ci aveva costretto a dichiarare la chiusura di tutti i laboratori, però io mi prendo il rischio anche della bocciatura del piano di riordine, sto ovviamente scherzando, è un'iperbole, ma credo che lasciare qui il laboratorio di analisi sia una cosa importante. Capisco la competizione con i comuni limitrofi, però non mi pare che la logica niente per nessuno sia preferibile ad avere un laboratorio di analisi comunque vicino. Quindi noi facciamo questa scelta anche simbolica con riferimento alla più importante delle località turistiche italiane, che è appunto Evieste. Capisco che l'avremmo potuto mettere anche da qualche altra parte, però penso che Evieste dopo il carico che sopporta dare questa soddisfazione di immagine di lasciare il laboratorio di analisi sia assolutamente importante. Ripeto, mi scuso con gli altri comuni, il laboratorio, come dire, si poteva lasciare pur affoggia, però se dobbiamo evitare di andare avanti e dietro con le automobili e se dobbiamo lasciarlo qui sul territorio anche per dare un incoraggiamento, abbiamo preso questa decisione e mi pare che sia una decisione corretta. Analogamente dobbiamo fare in modo che il sistema dell'emergenza-urgenza basato sugli elicotteri si rafforzi. Capisco che è un costo importante per l'ASL, ma avere l'elisuperficie in funzione sempre è di fondamentale importanza. Quindi oggi siamo anche venuti a dire a tutta l'area, non solo a Evieste, che l'elisuperficie rimarrà qui, rimarrà attiva anche durante la notte e che noi la terremo attiva per tutto l'anno. Quindi il Gargano, ecco, in qualche modo viene riavvicinato al continente, perché questa è, è vero che è una penisola, ma è una penisola talmente difficile da raggiungere in auto. Io sto guidando, stiamo guidando da ore per muoverci da un posto all'altro. Questo evidentemente sulla carta geografica non è chiarissimo a chi si occupa delle questioni della gente solo sulla carta geografica e senza andare a vedere di persona. Conne la risposta a Centro del Futuro? No, no, no. Conne è semplicemente anche un mio cambiamento interiore, lo dico chiaramente. Io mi chiamo Michele, quindi è chiaro che ho vissuto tutta una vita combattendo contro le mafie, contro la distruzione della mia città. Io voglio ricordare a tutti che io vivevo in una città che era un disastro. Era una città dove nessuno si metteva il casco, dove tutti si odiavano uno con l'altro. Bari era un posto dove la gente arrivava alle porte e doveva tornare indietro perché il traffico gli impediva di entrare. Non ricostruivamo i teatri. Io ovviamente ho passato molti anni della mia vita con la sciabola in mano, picchiando a destra e a sinistra, tentando di liberarmi di tutta una serie di poteri che tenevano bloccata. E quindi è chiaro che adesso però mi sono reso conto che il contro di questo momento politico è un contro la povera gente. Questi sono contro i morti di fame, sono contro quelli che arrivano sfiniti su una spiaggia, sono contro quelli che non contano niente, sono contro l'umanità, sono contro anche le leggi che c'erano scritte nell'Odissea. Una delle regole del Mediterraneo, della nostra cultura, è che se tu puoi salvare una persona lo devi fare, punto e basta. E quindi essere contro chi sta affogando, chi non ha nulla, è una cosa insopportabile. E la tentazione di reagire violentamente è forte, soprattutto per chi ha un carattere come il mio. Ed invece per noi essere con è il metodo pugliese di combattere le discriminazioni. Perché essere dalla parte delle persone, essere con chi ha bisogno, con chi è disoccupato, non a chiacchiere ma sul serio, senza dividere le persone, ecco per noi questo è un metodo politico. E quindi è un metodo politico, poi vedremo cosa verrà fuori. Diciamo che cambia tutto e niente. Intanto venerdì asiva Salvini sul Gasgano a lanciare il guanto di sfida proprio a Emiliano. Se lui vuole lanciare una sfida a chi è più bravo a ballare con le ragazze, beh insomma io non me la cavavo male all'età sua, però nel tempo mi sono dovuto occupare l'altro. Prima o poi capita di lavorare nella vita, capita di prendersi delle responsabilità, capita di fare la lotta alla mafia sul serio, capita di vivere come è capitato a me. 12 anni blindato in una macchina con i vetri spessi di 10 centimetri, capita di mettersi contro palazzinari, lobbyisti. Ogni tanto deve capitare che a questi attori della politica 10 minuti di lavoro li dovranno mettere insieme. E io mi auguro che Peschici, per esempio ricordi a questo esponente del governo che abbiamo bisogno di un sacco di cose, per esempio la rete stradale del Gargano, andrebbe rinforzata, come d'altra parte andrebbe rinforzata la rete stradale dei Monti Dauni. Quindi la regionale 1 e il completamento delle strade del Gargano, se il governo ci danno una mano a farle, a noi vanno bene. E quindi è benvenuto, è benvenuto persino Salvini in pugna, questo sia chiaro. Noi non cacciamo via nessuno, non trattiamo male nessuno, non ci mancherebbe, accogliamo tutti a braccia aperte, persino chi non ce lo merita.